Inizialmente Inizialmente è stata molto drammatica perché quando il giudice aveva stabilito che serviva del tempo per prendere delle informazioni sulla nostra situazione familiare, il bambino è stato affidato a delle persone che noi non conoscevamo, questa situazione è stata un po' pesante, dura da accettare anche perché il bambino piccolissimo ci è stato strappato così dalle braccia. Una mattina ha telefonato l'assistente sociale e ci ha comunicato della disponibilità di un bimbetto neonato, aveva 20 giorni allora, era nato il 26 di novembre. Ed è stata una scelta anche difficile comunque perché un neonato dopo tanto tempo a cui non eravamo più abituati a gestire bambini così piccoli con delle esigenze così particolari, però l'entusiasmo e l'emozione era stata talmente forte che abbiamo accettato immediatamente con entusiasmo. Mia moglie ha fatto anche qualche... Sì, perché io poi avevo i bambini piccoli. Poi invece abbiamo capito che la cosa migliore da fare era collaborare con le assistenti. Magari che poi da questa cosa qui non era tutto negativo ma che magari all'inizio sì, uno dice mi tolgo nel figlio, pensi che sia una cosa positiva, però poi dopo arrivi a capire alla fine che di tutto questo puoi trarre anche un vantaggio, conoscere delle persone che comunque tutt'oggi c'è un rapporto, che poi è diventata un'amicizia e tutto il resto. E siamo andati così dopo gli incontri, le indicazioni, incontri con la mamma e con il papà con l'assistenza dei servizi sociali. Abbiamo fatto degli incontri perché i servizi hanno spiegato come mai questo intervento, in questa fase, in questa maniera, ai genitori e alla famiglia di origine. Noi siamo andati volentieri a questo incontro perché era bene vedere in faccia, conoscere questa famiglia a cui comunque avremmo creato qualche problema anche noi direttamente. Difficoltà che è sparita subito perché il bambino è entrato in casa, è diventato un pochino uno dei nostri piccoli che abbiamo cercato di allevare. Il bimbo è cresciuto, ci dava delle soddisfazioni che erano uguali a quelle che ci hanno dato anni fa i nostri e che quasi non ricordavamo più. Erano dei bellissimi ricordi, però erano ricordi. Abbiamo rivissuto volentieri quei ricordi. Loro hanno avuto un fratellino da seguire, da accudire. Lui faceva la sua guardia del corpo perché naturalmente era diventato anche un'attrazione per i parenti, per le famiglie. Ma stava molto attento che non gli facessero troppe attenzioni, quindi troppi fastidi. E Marta faceva la sorella maggiore. Io sono stato il primo che volevo subito questo bambino perché non ho mai avuto un bambino più piccolo di me. E' da giocare insieme. Non sono più il fratello minore, perché non mi piaceva tanto esserlo. Io all'inizio, quando me l'hanno proposta, non l'ho presa bene quanto lui o quanto loro, perché mi sembrava una cosa particolare, strana da rifletterci su un po' prima di prendere una decisione. Poi ho capito che era comunque una cosa importante da fare ed era anche una bella cosa nei confronti degli altri. Quindi ho accettato volentieri. E abbiamo cominciato a conoscere la famiglia di origine. Questi due ragazzi che ci sembravano due ragazzi che avevano bisogno di aiuto, ma che erano due ragazzi a posto, due ragazzi per bene. Che veramente stavamo facendo qualcosa di buono, anche per loro. Per il bimbo sicuramente, perché stava crescendo con il nostro affetto in quel momento, un affetto forte della nostra famiglia e stavamo facendo probabilmente qualcosa di utile per loro. Io ricordo che alla fine dell'affido, in un momento in cui poi ci siamo aperti anche con i genitori, i genitori del bimbo ci hanno raccontato qual è stato il loro percorso, qual è stata la loro attività, la loro esperienza e qualche difficoltà ce l'hanno appunto espressa. Ci siamo resi conto che il percorso si stava mettendo bene, che poi alla fine noi il bambino lo vedevamo tutte le settimane e vedevamo che il bambino stava bene tutto. Ci siamo iniziati a affidare molto dalle persone che hanno scelto gli assistenti come affidatari e di conseguenza anche in futuro abbiamo deciso di mantenere l'amicizia, anche dopo la sentenza che il bambino è tornato a casa perché sono delle persone veramente… Bravi, disponibili… Nello stesso tempo sanno bene accogliere un bambino, per cui credo che come loro ce ne siano altri che riescono a fare il lavoro bene di affidamento ai bambini. È una cosa bella sapere che non ci sono solo dei centri dove magari si possono accogliere i bambini, ma direttamente delle famiglie, che la cosa rimane molto più… cioè non viene proprio distaccato dalla famiglia così grave il bambino. A un certo punto, visto che le cose stavano andando veramente bene per la famiglia di origine, è arrivata la telefonata che il tribunale finalmente aveva deciso che la famiglia di origine era pronta per riavere il loro bambino. E lì è stato una cosa strana, perché tutti gli amici a cui chiediamo, che ci chiedono com'è, 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 la cosa che ci chiedono sempre… E poi, quando finisce l'affido, come fate? Io sarei in difficoltà perché mi affezionerei troppo. Certo che noi ci siamo affezionati tantissimo, ma credo, e la notizia che andava via è stata come quella di un pugno che sai che deve arrivare, ma che non sai che effetto può avere. Però è stata la gioia di vedere questo bambino tornare con la sua mamma in una situazione risolta a pieno e quindi tornare e rivedere tutta la famiglia felice. È stato nettamente superiore a quello che per noi è stato questo piccolo dolore per la partenza. Riaverlo di nuovo è stato, secondo me, come partorire per la seconda volta, perché poi era tutto mio, era tutto nostro. Anche la minima cosa è che magari uno dice, ti svegli e c'è, è normale. Invece no, invece lì per noi non era normale, perché ci svegli e c'è, c'è. Era bello, ed è bello ancora. E adesso continuiamo sempre a vedere questo bimbo, è diventato il nostro figlioccio, gli vogliamo un bene, tanto bene, come se fosse una parte di noi. E per fortuna questi genitori sono consapevoli, ci ringraziano sempre, ogni volta. È stata una bella esperienza. È nata un'amicizia anche, oltre… È nata un'amicizia con questi genitori bravi, proprio bravi veramente. Oltre naturalmente all'affetto che c'è nei confronti del bimbo, è nata questa amicizia tra due famiglie, che oggi si frequentano normalmente. Quando c'è bisogno di… noi siamo sempre disponibili a tenerlo, a vederlo, ad accompagnarlo all'asilo, ad andare a trovarlo a casa per vedere come sta. Gli affidatari del nostro figlio sono, tutt'oggi, madrina e padrino. Ancora loro continuano ad affidare dei bambini che hanno dei problemi. Abbiamo un altro bimbo, che è stato all'asilo, di quasi tre anni. È una bella esperienza anche questo, un bimbo bellissimo, occhi azzurri. Un'esperienza diversa rispetto alla prima, perché la prima è stato proprio un neonato, al quale abbiamo dovuto soprattutto accudire nelle esigenze primarie. Questo nuovo bimbo è invece un bimbo che si… Aveva già un suo carattere. Rapporta in maniera già importante e diversa anche con noi. Ed è di nuovo una bella, bella esperienza, soprattutto per quello che il bambino adesso sta portando in famiglia. Io sinceramente con il secondo, avendo anche l'esperienza del primo, è stato anche un po' più semplice. I rapporti tra la famiglia che è anche più unita, avendo come centro questo bambino, tutti si dedicano a lui e tutti esseri molto più uniti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.